Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV e SOP, di cui trovate i link in descrizione. Endless Love, Cara Sedda. Anticipazioni da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile 2024. Kemal invita Salih a cena a casa sua quella stessa sera, rivelando di aver parlato con i suoi genitori riguardo alla relazione tra lui e Zeynep, e che tutti sono entusiasti. Tuttavia, Salih percepisce che Kemal è preoccupato per qualcosa, e quando quest'ultimo rivela il suo piano di controllare i registri ospedalieri di cinque anni prima, Salih pensa immediatamente a un esperto informatico che potrebbe aiutarli nella ricerca. Contemporaneamente, Onder analizza i registri contabili di cinque anni prima, e nota un significativo trasferimento di denaro dall'azienda al conto personale di Emir. Avvisa immediatamente Nian, suggerendo che potrebbe trattarsi dei soldi che Emir ha dato all'amica della defunta ragazza per comprare il suo silenzio. Emir, nel frattempo, chiede a Tufan di lasciare in sospeso il contratto che Tariq deve firmare con l'agenzia immobiliare, e di fare in modo che Kemal e Salih vedano il filmato in cui Ozan incendia la barca di Salih, e Tufan esegue gli ordini. Più tardi, Emir raggiunge Zeynep vicino a un elicottero. Lei, sebbene imbarazzata, si chiede perché si trovano lì. Dopo averla invitata a salire, lui le rivela che andranno al concerto del suo cantante preferito, e nonostante sia perplessa, Zeynep accetta felice. A casa, Tariq si prepara per firmare il contratto per il suo nuovo negozio, e sua madre Feimè gli augura di realizzare i suoi sogni. Nel suo ufficio, Kemal, insieme a Salih e un amico esperto informatico, iniziano una ricerca nei database di cinque anni prima degli ospedali. Inoltre, Kemal chiede alla sua segretaria di non fare entrare nessuno nel suo ufficio, soprattutto Asu. Dopo una lunga ricerca, non trovano nessuna registrazione a nome di Ozan. Quindi Kemal suggerisce di consultare i registri dei commissariati. Ma l'amico informatico lo avverte che ci vorrà più tempo e li invita a sedersi. Zeynep, sull'elicottero con Emir, ammira affascinata il panorama, e chiede se faranno tardi, ma lui la rassicura, dicendo che non farebbe mai nulla per metterla nei guai. Lei quindi si tranquillizza, e non nasconde la sua felicità. In quel momento, Emir riceve un messaggio da Tufan, che lo informa che entrambi i suoi ordini sono stati eseguiti. Nell'ufficio di Kemal, l'amico di Salih non trova nulla che riguardi Ozan, ma nota che quella notte di cinque anni prima, Nian ha ricevuto una multa a mezzanotte e mezza. 20 minuti dopo aver salutato Kemal, l'esperto informatico rivela che la macchina di Nian è stata fotografata da un autovelox mentre percorreva una strada verso una zona nota per le sue proprietà private e case di campagna. Questa notizia porta Kemal a chiedersi se Nian o Emir possiedano qualche proprietà in quella zona. Nian intanto sta cercando su internet la ragazza bionda che ha visto in foto con Emir, ma l'arrivo di suo fratello Ozan interrompe la sua ricerca. Ozan è turbato da ciò che gli ha detto Emir riguardo a Kemal, e avverte la sorella sulle intenzioni di quest'ultimo. Nian ricorda a Ozan che la sua ossessione per Zeynep lo ha portato a dare fuoco alla barca di Salih, e che dovrebbe assumersi le sue responsabilità riguardo ai danni e chiedendo scusa. Ozan teme che la sorella possa denunciarlo, e sottolinea che l'amore che lei prova per Kemal potrebbe spingerla a fare qualsiasi cosa, anche tradire suo fratello. Afferma che, più Nian si avvicina a Kemal, più si allontana dalla sua famiglia. Poi, Ozan aggiunge che non lascerà mai Zeynep, e che, per la prima volta, è disposto a distruggere tutto per una ragazza, proprio come Nian sta facendo per Kemal. Quindi Ozan se ne va, senza lasciar parlare sua sorella, che rimane a riflettere con un leggero sorriso sulle labbra. In ufficio, Kemal chiede all'amico di Salih di fare ulteriori ricerche sugli atti di proprietà della famiglia Sezzino-Cosgiolo, ma il ragazzo risponde che non riesce ad approfondire la ricerca, perché probabilmente hanno aggiornato i database. Nel mentre, Salih riceve una chiamata dal distretto di polizia che lo informa di aver trovato un video con la registrazione dell'incendio alla sua barca. Si avvia subito, e Kemal si offre di accompagnarlo. Decidendo di dare un passaggio anche al loro amico esperto informatico, e di parlare un po' in auto. Arrivati al distretto di polizia, a Kemal e Salih vengono mostrate le immagini di quella notte in cui un gruppo di persone si avvicina alla barca. Nel video si vede chiaramente Ozan, riconosciuto da Kemal e Salih. Tuttavia, Kemal fa accenno al suo amico di non dire nulla. E quando l'ispettore di polizia chiede loro se riconoscono qualcuno, entrambi rispondono di no. Successivamente, Tarik si trova davanti al locale dove aprirà il suo salone da barbiere. Tuttavia, quando arriva l'agente immobiliare, viene informato che il proprietario dello stabile ha deciso di non vendere più. Nonostante Tarik riveli che si è occupato di tutto Emir Cosgiolu, l'agente immobiliare se ne va. Tarik prova a chiamare prima Tufan e poi Emir, ma entrambi non rispondono. Nel frattempo, Emir è con Zeynep, è finito il concerto. La prende per mano e la porta direttamente nel camerino del suo cantante preferito. Lei, felice, mostra un atteggiamento altezzoso mentre scavalca tutta la fila ed entra nel camerino. Rimasto solo, Emir richiama Tarik, che spiega che il proprietario del locale ha rinunciato alla vendita. Soddisfatto, Emir gli dice di non preoccuparsi, che ci penserà lui, e dentro il giorno seguente firmerà il suo contratto. Tarik, felice, loda Emir per la sua gentilezza. Terminata la chiamata con Tarik, Emir telefona a Tufan, e gli dà il via per procedere con la prossima mossa. Intanto, in macchina, Kemal spiega a Salih che se lo ha fermato alla stazione di polizia è solo per Nian, e Salih risponde che se non fosse stato per lui non si sarebbe fermato. Kemal sospetta che dietro tutto ciò ci sia Emir, il quale ha deciso di far uscire i filmati allo scoperto per punire sua moglie. Decide quindi di parlare con Nian, e la chiama, dicendole di doverla vedere. Lei è titubante, ma poi, comprendendo che la cosa è importante, accetta di vedersi alla collina degli Aquiloni. In azienda, Onder si reca da Galip e suggerisce di assumere il controllo dell'azienda dato che Galip ha allontanato Emir. Onder ritiene che sia stata una decisione corretta, ma Galip lo interrompe subito, sottolineando che anche i suoi figli hanno commesso errori, e afferma che non è necessario prendere il comando dell'azienda, perché Emir tornerà a guidarla non appena avrà riorganizzato i suoi pensieri, e che nulla è cambiato. Zeynep esce dal camerino del cantante, e trova Emir ad aspettarla. Lei mostra con gioia il plettro che il musicista le ha regalato, un ricordo speciale di quella giornata. Emir allora le chiede se ha ancora paura di lui, e poi le dice che è meglio se tornano a casa. Zeynep, felice e lusingata, accetta e lo segue. Contemporaneamente, Kemal arriva alla collina degli Aquiloni, e vede da lontano Nian, immersa nei suoi pensieri mentre osserva il lago. Si avvicina silenziosamente a lei, e percepisce il profumo dei suoi capelli che svolazzano al vento. Nian avverte la presenza di Kemal, e si volta per dirgli che non possono continuare a vedersi. Tuttavia, Kemal la interrompe, chiedendole se sapeva che Ozan aveva incendiato la barca di Salih. Nian, sorpresa, non risponde, permettendo a Kemal di capire che ne era a conoscenza. Kemal le rivela che lui e Salih hanno visto le immagini delle telecamere che mostrano Ozan quella notte al molo, ma hanno deciso di non denunciarlo per proteggerla. Poi, le chiede di spiegare cosa intende quando dice che ha sposato Emir per suo fratello, ma Nian risponde di aver già detto troppo durante il viaggio in Funivia, e che nulla di ciò che potrebbe dire cambierebbe la loro situazione. Spiega che ha dovuto prendere una decisione per il bene di suo fratello, della sua famiglia, e di se stessa, poiché l'azienda di suo padre era in crisi, e solo Emir poteva salvarla. Aggiunge che ha sposato Emir per il futuro di suo fratello e per il proprio. Chiede quindi a Kemal di non interferire più, e con le lacrime agli occhi, ringrazia lui e Salih, ma mentre sta per andarsene, Kemal la ferma, e le fa capire che non le crede. Emir e Zeynep sono in auto di ritorno da Bursa. Lui cerca di conquistarla, dicendole che la renderà ancora più felice con viaggi e regali. Prima di scendere dall'auto, Emir osserva la mano di Zeynep, e le dice che avrà una bella vita se non avrà paura di tutto, poi, le bacia la mano e la saluta. A casa, Fime sta preparando la cena in attesa di Salih e Kemal. Nel frattempo, Tariq cerca di contattare sua sorella, ma il suo telefono risulta spento. Kemal e Salih arrivano a casa, e prima di entrare, Salih ribadisce a Kemal che si ha deciso di non denunciare Osane solo per lui, perché si fida. Entrano in casa, e Salih viene accolto calorosamente. Poco dopo, arriva anche Zeynep, ma sembra visibilmente infastidita nel trovare Salih per ufficializzare il loro fidanzamento. Cerca di nascondere il suo disagio, ma è evidente che il suo umore non è dei migliori. Nel mentre, Nyan è in giardino, quando suo padre la raggiunge, e le mostra una transazione economica effettuata da Emir cinque anni prima. Le rivela di aver parlato con Dalip, che ha confermato che Emir riprenderà il progetto della centrale termica. Nyan è convinta che Kemal non partecipi più a quel progetto, ma Onder le spiega che il mondo degli affari ha più potere di Kemal. Nyan allora sente l'urgenza di informare l'ex fidanzato, ma Onder sostiene che Kemal probabilmente lo immagina già. Nonostante ciò, Nyan non è convinta, e guarda verso la casa di Kemal. Onder, poi, chiede alla figlia se è riuscita a trovare la ragazza della foto su internet, ma Nyan risponde negativamente. A questo punto, Onder annuncia che tornerà nella casa di campagna, e Nyan decide di accompagnarlo, poiché sono in gioco il suo futuro e quello di Ozan. Infine, padre e figlia si abbracciano speranzosi. Più tardi, Emir si trova in un albergo di lusso, e ordina di preparare la suite matrimoniale, adornata con fiori e petali. Poi, invia un messaggio a Zeynep, fissando un appuntamento per il giorno successivo in un luogo da sogno. Durante la cena, mentre tutti ricordano i vecchi tempi, Zeynep è distratta dai suoi pensieri, e non partecipa alla conversazione. Poi, legge un messaggio di Emir, e si alza per andare in bagno a rispondere. Emir le scrive che al loro prossimo appuntamento toccherà il cielo con un dito. Zeynep, guardandosi allo specchio, risponde provocandolo che non sarà facile convincerla. In quel momento, sua madre Feimè la richiama a tavola, mentre Emir sa bene che Zeynep è già convinta. E che il suo piano sta funzionando. Nyan, riflettendo su ciò che suo padre le ha detto, decide di avvertire Kemal. Tuttavia, non riesce a raggiungerlo al telefono, e non volendo lasciare le cose in sospeso, decide di uscire di casa in segreto, e bussa alla finestra di Kemal. Kemal, appena uscito dalla doccia, le chiede il motivo della sua visita. Lei gli spiega che non ha risposto alla sua chiamata, costringendola ad andare di persona. Kemal le ricorda che è stata lei a dire che non possono continuare a vedersi, e aggiunge che ogni volta che la vede, per lui è un colpo al cuore. Ma Nyan risponde che è lo stesso anche per lei, e sentendosi a disagio, gli chiede se può indossare qualcosa, dato che ha torso nudo, e Kemal indossa una felpa. Poi, Nyan lo informa che Emir tornerà al comando del progetto in azienda. Kemal risponde che non è affatto sorpreso, ma aggiunge che non sarà facile per Emir lavorare di nuovo con lui. L'atmosfera viene bruscamente interrotta dall'arrivo a sorpresa di Asu. Nyan si nasconde in camera da letto, e Asu entra con una bottiglia di vino in mano, per festeggiare l'acquisto della nuova casa di Kemal. Poco dopo, Asu chiede di andare in bagno, e Kemal riesce a far uscire Nyan da casa sua. Tornata a casa, Nyan è visibilmente infastidita e gelosa. Così chiama la sua amica Yasemin e le chiede di contattare Asu per cercare di allontanarla da casa di Kemal con una scusa. Yasemin, tuttavia, risponde che non può impedire a Kemal di rifarsi una vita con un'altra donna, e sottolinea che nessun uomo rimarrebbe fedele a una ex che si è sposata con un altro uomo cinque anni prima, e consiglia all'amica di accettare la situazione. Intanto, a casa di Kemal, Asu, che ha bevuto un po' troppo, cerca un approccio con Kemal, il quale la rifiuta, e capendo che lei ha bevuto troppo, la accompagna in camera da letto, dicendo che è meglio se dorme lì, mentre lui si sistema sul divano. La mattina seguente, Nyan, Asu e Kemal si svegliano, e Onder raggiunge la figlia nella sua camera da letto. Le rivela che il custode della villa in campagna ha detto che nessuno ha messo piede lì per cinque anni. Le assicura che quel giorno la villa sarà vuota, e potranno esplorarla liberamente. Nyan propone di andare quella mattina stessa, determinata a fare tutto il possibile per salvaguardare il suo futuro e quello della sua famiglia. In quel momento, entra Emir, e si dirige direttamente verso il suo armadio, recuperando da un cassetto uno dei gemelli che Onder aveva perso. Nel frattempo, a casa, Kemal prepara uno spuntino per Asu. Tuttavia, lei afferma di non avere fame, e si chiede se si sia comportata in modo ridicolo la sera precedente. Kemal la rassicura dicendole di stare tranquilla, e le augura buon appetito. Intanto, Leila parla al telefono con qualcuno, chiedendo il nome della persona che la aiuterà, e poi esce di casa. Emir, dopo aver preso uno dei gemelli di Onder nel suo cassetto, chiede a Onder se si è il suo. Onder cade nella trappola e conferma. Così, Emir è certo che sia stato proprio lui ad avvisare Kemal gli a rovinare il suo piano. Poi, chiama Tufan per mettere in atto un piano contro Onder. Tufan spiega che l'autista farà come comandato, e scapperà via, così da incastrare e rendere complice anche Tariq. Poco dopo, Tufan chiama Tariq, e lo invita a incontrarsi davanti al locale che aveva intenzione di acquistare, per un incontro con il proprietario. Nel mentre, Kemal chiama Salih, e discute con lui sullo stato d'animo cupo di Zeynep che entrambi hanno notato. Kemal suggerisce all'amico che Zeynep potrebbe essere spaventata, e lo invita a parlare con lei per cercare di alleviare le sue preoccupazioni. A casa, Vildan nota che Emir è di cattivo umore dopo la discussione con suo padre Galip, tuttavia, Onder afferma di preferire Emir in questo stato. Zeynep sta scegliendo l'abito per il suo appuntamento con Emir, quando riceve una chiamata proprio da lui, che la invita a cena, e le promette che sarà una bellissima serata. La farà andare a prendere da un autista e la riporterà a casa subito dopo, ma lei teme di essere scoperta e rifiuta, dicendo che andrà lei stessa sul luogo dell'appuntamento. Nian esce di casa, e nota Kemal e Asu che escono insieme da casa di Kemal. Rimane talmente tanto disturbata da quello che vede, che continua a guidare senza guardare la strada, ed urta un cassonetto della spazzatura. Kemal e Asu se ne accorgono, e Kemal le chiede subito se stia bene, ma Nian è troppo gelosa ed irritata per parlare con lui, e lo caccia via. Asu coglie l'occasione per provocare Nian, ringraziandola per averle permesso di passare la notte più bella di tutta la sua vita con Kemal, poiché, se non fosse stato per lei, non si sarebbe mai presentata a casa sua per la prima volta. In quel momento, Kemal chiama Asu, la quale entra in macchina, e mentendo, dice di aver spiegato a Nian il motivo per cui è rimasta a dormire a casa sua, per evitare malintesi. Nian invece mostra tutta la sua frustrazione battendo i pugni sul volante, incapace di controllare la sua rabbia. Lei la aiuta Kemal ad indagare sul segreto di Ozan, e si reca al Catasto, cercando una proprietà a nome Sezzino Kosgiolu, così da scoprire l'indirizzo della casa misteriosa. Nian si trova nel suo laboratorio, e sta divorando una torta. Yasemin capisce che l'amica non sta affatto bene, e Nian le rivela che Asu ha passato la notte a casa di Kemal, e piangendo, confessa che una parte di lei credeva ancora che Kemal potesse amarla. Yasemin cerca di farle capire che non è possibile, ma Nian le rivela che non ha mai tradito Kemal. Emir continua a tramare contro i suoi rivali, e mentre organizza la cena con Zeynep, ordina al direttore dell'hotel di informare la stampa che lui si troverà lì, con una donna che non è sua moglie. Zeynep cerca di raggiungere il luogo dell'appuntamento con Emir, ma salì la blocca. Devono parlare, perché lui ha notato il suo atteggiamento strano durante la proposta di matrimonio. Così, i due ragazzi si recano in un bar per discuterne. Zeynep cerca di essere il più sincera possibile, spiegandogli che non ha intenzione di sposarsi così presto, ed è rimasta delusa dal fatto che lui non l'abbia ascoltata e abbia organizzato tutto con Kemal. Tariq sale in auto con un uomo, il quale afferma di essere stato inviato da Tufan. L'uomo lo informa che lo accompagnerà a firmare il contratto, poiché Tufan ha avuto un imprevisto di lavoro. Nel mentre, Onder si trova in un ristorante con un altro uomo. Mentre si stanno per congedare, un cameriere informa l'uomo che è con Tariq che Onder sta per uscire dal ristorante. Così, l'uomo che è in macchina con Tariq investe violentemente Onder. L'uomo alla guida intende scappare, dicendo a Tariq che sono complici di un crimine, e cerca di rimettere in moto l'auto senza prestare soccorso. Tuttavia, Tariq gli ordina di fermarsi, e riesce a scendere dalla macchina, mandando all'aria il piano di Emir, che aveva organizzato il tentato omicidio di Onder, cercando di accusare Tariq di favoreggiamento in omissione di soccorso. Quindi, Tariq raggiunge Onder, riverso sulla strada, con una profonda ferita alla testa, e grida aiuto. Intanto, Zeynep, finito di parlare con Salih, cerca di prendere un taxi per raggiungere Emir, ma Salih sale con lei sul taxi per accompagnarla a casa. Nyan arriva alla casa di campagna dove si è consumato il delitto cinque anni prima, e aspetta suo padre, che non solo è in ritardo, ma non risponde neanche al telefono. Quindi gli lascia un messaggio in segreteria, in quanto Nyan è ancora all'oscuro di quanto successo a Onder. Zeynep non può raggiungere Emir, e lo informa mandandogli un messaggio. Emir la stava già aspettando, e dopo aver letto il messaggio la chiama. Tuttavia, Zeynep non può parlare vista la presenza di Salih, e Emir, deluso per non poter attuare il suo piano, le chiude la chiamata. Subito dopo Emir riceve una chiamata da Tufan, il quale lo informa che il piano con Tariq è fallito. Intanto, Nyan, impaziente e stanca di aspettare, decide di entrare nella villa di campagna di Emir. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.